Amici di Android Blog, stiamo girando questo video con NGM Dynamic Racing GP. Proviamo subito un controluce in questa giornata fortunatamente di sole per vedere l'adattamento alle luci. Proviamo a fare un pan veloce verso destra e a camminare per vedere quanto rimane stabile la ripresa. Proviamo ad avvicinarci al vaso di fiori per vedere la messa a fuoco a distanza ravvicinata per poi spostarci subito verso l'alto. Vediamo lo zoom che si fa fino a 4x, ovviamente digitale come potete vedere. La ripresa è alla risoluzione massima di 720p per questo video girato, ripeto, da NGM Dynamic Racing GP.